La Goglio S.P.A. è una società che ha oltre 160 anni di vita e lavora nel campo del packaging dell'industria delle macchine meccaniche per confezionare prodotti alimentari, quali il caffè, quali prodotti in polvere come zuccheri, lieviti, piuttosto che i prodotti liquidi di prima lavorazione per pomodoro, per frutta e vegetali. Per questo particolare evento mi sono stati sottoposti diversi quesiti e diversi temi. Innanzitutto un primo tema è sull'evoluzione del packaging nei prossimi dieci anni, un tema per quanto riguarda l'evoluzione delle macchine di confezionamento e il tema sulla sicurezza, sia sulla sicurezza del prodotto confezionato, quindi la sicurezza dell'alimento, sia sulla sicurezza di chi opera con le nostre macchine di packaging di confezionamento. Per questi tre temi abbiamo preparato delle risposte. In breve posso dire che sulla tipologia di imballaggi che si useranno nei prossimi anni ci sarà una grossissima evoluzione verso imballaggi eco-bio, piuttosto che imballaggi biodegradabili che compostabili. E questa è una tendenza, una moda. Per quanto riguarda invece gli impianti e le macchine di confezionamento c'è un grossissimo sviluppo affinché le macchine siano totalmente automatiche, gestite da posizioni remote e gestite tra virgolette senza operatore e senza manutentore. Questa è la richiesta che il mercato ci sta chiedendo, soprattutto nei mercati più evoluti dove poi il costo della mano d'opera è più elevato. L'ultimo tema che tratteremo e discuteremo sarà sulla sicurezza in generale. Sicurezza si intende innanzitutto garantire la shelf life del prodotto confezionato e quindi una sterilità e una durata nel tempo. Che il prodotto confezionato poi mantenga tutte le caratteristiche organolettiche. e secondo tema della sicurezza sia per quanto riguarda gli operatori che operano sulle macchine ma soprattutto la sicurezza di chi deve intervenire a livello di manutenzione sulle nostre linee di confezionamento e di packaging che stiamo e che installeremo in futuro. Ringrazio chi mi ha invitato e chi ci ha ospitato per questo meeting. Grazie